Nel dare la parola a Michele Grimaldi, che relazionerà sul lavoro della Commissione Politica, volevo ringraziare la redazione di Agorà, che ha ripreso tutto il nostro congresso, l'ha seguito in questi tre giorni e darà appuntamento a tutti voi domani mattina alle 8 per uno speciale di Agorà, che partirà proprio con le immagini di questo nostro congresso. Quindi, grazie Agorà. Abbiamo poi una quantità di interventi che sono stati tagliati, non so se tutti quelli che hanno rinunciato all'intervento sanno di aver rinunciato all'intervento. Li ringraziamo comunque con un grande applauso, perché sono le quattro, le delegazioni devono partire e dobbiamo avviarci a concludere questo congresso. Grazie. Io cercherò di essere il più breve possibile dandovi una buona notizia. Innanzitutto ringrazio il co-presidente della Commissione Politica, il mio amico Gnoffo, ringrazio tutti i ragazzi che ieri hanno fatto le due del mattino per lavorare sugli ordini del giorno, gli emendamenti e vi do questa buona notizia. L'unica volta che ci siamo spaccati votando è stato quando abbiamo deciso quali pizze chiamare. Per il resto abbiamo tutto approvato all'unanimità e questo penso sia il miglior segnale possibile. Cerco di andare molto velocemente, anche perché ieri notte abbiamo discusso di oltre 55 ordini del giorno, oltre 25 emendamenti, oltre 15 documenti di indirizzo politico. Quindi capirete che provare a descrivervi e a raccontarveli tutti occorrerebbe un altro congresso e non ci pare ovviamente il caso. Ci siamo soffermati molto su una serie di ordini del giorno, a partire dal primo, lo si citava negli interventi, che impegna la nostra organizzazione ad aprire una discussione sul tema della liberalizzazione delle droghe leggere, soprattutto come antitesi ai poteri criminali. ci siamo soffermati a discutere ed è stato approvato l'unanimità su un ordine del giorno che impegna la nostra organizzazione a sostenere i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Abbiamo approvato ordini del giorno che chiedono una maggiore attenzione rispetto alla questione meridionale, alla creazione di un tavolo di permanente regioni democratici, che su questo faccia proposte, faccia analisi, faccia discussione. Sul resto cercando di andare avanti anche in maniera veloce, abbiamo approvato un'altra serie di ordini del giorno che riguardano anche la struttura interna della nostra organizzazione, quindi il tema della comunicazione, il tema della formazione politica, la richiesta che abbiamo pensato sia opportuna accettare del fatto che la nostra organizzazione approvi a inizio anno un bilancio preventivo e a fine anno un bilancio consuntivo, che questa stessa procedura venga effettuata a tutti i livelli regionali dell'organizzazione e che sia a livello nazionale che regionale devono rendere pubblici sul sito internet tali bilanci. Abbiamo discusso molto, non mi dilungo, ne ha parlato Federico, Mario, nel proprio intervento riguardo al tema degli FFO per l'università, molto rispetto al tema della difesa dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, impegnando la nostra organizzazione soprattutto per quanto riguarda cito due casi, quello del Vallo di Diano in Campania e quello di Monopoli in Puglia contro chi prova a speculare sulle nostre terre creando disastri ambientali. Abbiamo approvato un ordine del giorno che impegna la nostra organizzazione a fare battaglia politica nel partito, sia per chiedere che i patti di stabilità nei comuni vengano trasformati in patti di sostenibilità cercando di liberalizzare molte risorse a favore degli enti locali, sia che impegnino la nostra organizzazione a fare richiesta al nostro partito affinché si schieri contro il vincolo di bilancio nelle Costituzioni europee. Sul resto, il lavoro è stato molto lungo, si va sostanzialmente dalla richiesta di dare rilevanza nazionale alle manifestazioni in memoria di Peppini Impastato e della strage di Portella delle Ginestre in Sicilia, alla richiesta della costruzione di un'Europa federale, un ordine del giorno che impegna la nostra organizzazione in difesa del valore legale del titolo di studio. Abbiamo molto lavorato anche in Commissione sul tentativo di costruire tutti i percorsi unitari per quanto riguarda ad esempio il tema dei rapporti internazionali della nostra organizzazione giovanile. Abbiamo ritenuto opportuno che la nostra organizzazione si faccia promotrice assieme alla UCL Ecosy nella costruzione di un tavolo permanente che punti a costruire un'organizzazione internazionale di tutte le giovanili e dei partiti che afferiscono a livello europeo all'ASDE e a livello mondiale ai partiti del campo del riformismo e del socialismo. Abbiamo ovviamente approvato un ordine del giorno a firma di molti segretari regionali che chiedono impegno alla nostra organizzazione per ridiscutere i temi della rappresentanza nei consigli comunali sotto i 15.000 abitanti che così come previsto dalla riforma, diciamo l'ordine del giorno lo dice così, lo dice molto bene, sarebbe un freno la partecipazione delle giovani generazioni alla vita pubblica. Abbiamo chiesto che i giovani democratici chiedano al Partito Democratico che in ogni caso, ma soprattutto se l'attuale legge elettorale non dovesse essere approvata, discussa, modificata, ritenere indispensabile che il PD colmi questo deficit democratico predisponendo meccanismi di partecipazione popolare a partire dalle primarie. Per l'individuazione dei candidati al Parlamento, impegnando i giovani democratici a costruire un tavolo di discussione atto a predisporre una proposta utile a tale fine che salvaguardi innanzitutto esperienze di genere e di generazione e impegnando poi il Gd a presentare tra le proposte gli organismi dirigenti del Partito Democratico. Sul bilancio abbiamo detto, abbiamo approvato un ordine del giorno di indirizzo politico dei giovani democratici della Toscana che fa anche un po' il sunto di tutto il lavoro svolto in commissione politica, approvato una modifica al nostro statuto che chiede di inserire un riferimento diretto nell'articolo 1 dello statuto alla lotta alla criminalità organizzata e a tutte le mafie. E ragionato, discusso, proposto di un ordine del giorno a prima firma di Brando Benifei che seppur nella perplessità su alcuni passaggi, alcune valutazioni, c'è parso opportuno come segnale politico anche conclusivo della commissione recepire come atto di indirizzo politico, soprattutto nella parte programmatica, recepire tutte le proposte ai temi sviluppati da quello delle infrastrutture a quello dello sviluppo sostenibile, a quello di una maggiore attenzione dei territori, come patrimonio comune dell'organizzazione. Abbiamo poi approvato tutta una serie di emendamenti alle tesi che hanno carattere sostanzialmente integrativo, che rafforzano il nostro impegno sui temi del lavoro, della scuola, dell'università, facendo in un caso anche un esplicito riferimento a quella che è la generazione dell'ulivo, recuperando quello spirito come valore di una generazione che dovrebbe approcciarsi alla politica. Questo in breve, tutto il lavoro svolto nelle 6-7 ore di discussione di ieri, credo sia un grande patrimonio comune alla nostra organizzazione, che tutti questi ordini del giorno, atti di indirizzo politico, emendamenti, siano stati approvati all'unanimità e sia un buon segnale di partenza e di ripartenza. Grazie. 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 Grazie anche Antonella Amadeu che è stata la... Guardate, io vado rapidissimo perché il tempo è poco e abbiamo già stancato tutti. Noi abbiamo fatto questo lavoro che, devo dire, è stato un lavoro composto, diciamo, con un'assoluta presa di responsabilità da parte di tutte quante le delegazioni e dei segretari regionali. Nel costruirlo abbiamo pensato ai segretari regionali proprio perché loro sapevano quelle che sono, diciamo, quelle che sono le tensioni e quelle che sono, diciamo, le discussioni all'interno di diversi territori e proprio perché noi abbiamo un'organizzazione che deve da domani di cominciare a lavorare, diciamo, mettendo da parte le tesi, le cose. Io posso dire con grande soddisfazione che è stato composto un lavoro da parte di tutti in maniera soddisfacente e io ringrazio tutti quelli che sono stati in Commissione elettorale per questo. Ci siamo dati dei criteri sulla base dei quali abbiamo selezionato anche i delegati, i membri di direzione all'interno delle regioni e su questi criteri, diciamo, ne abbiamo mantenuti due, siamo riusciti a mantenerne. Il primo era di tenere la direzione su una quota di 100, asciugandola da 140 a 100 e questo è stato, per me, un grande risultato perché è stato, vuol dire, diciamo, aver detto anche tanti no, ma consegnare a un organismo nazionale maggiore autorevolezza e tutti quanti i segretari sono stati ben disposti e hanno, diciamo, accettato questo criterio. Il secondo è di tenere comunque una quota di donne, diciamo, elevata perché comunque dividendo, diciamo, i diversi membri nelle regioni le quote dispari creano comunque dei problemi e sappiamo che alla fine essere penalizzate sono le donne. Abbiamo detto di tenere una quota di donne tra il 40 e il 50, avvicinandosi più possibile al 50 ci siamo arrivati. Quindi ringrazio tutti quanti i segretari regionali. Io leggo la lista della direzione come, diciamo, le abbiamo discusse e le abbiamo ricevuta. La leggo, diciamo, l'elenco non è nominale, non è un elenco semplicemente orientativo, diciamo, però ci sono tutti, ve lo assicuro. Allora, Luca Bosonetto, Daniele Valle, Caterina Santa Chiara, Andrea Curcio, Marco Zingarelli, Filippo Ferrari, Elena Madama, Aureliano Gerbini, Raffaele Mittaridonna, Paola Pileri, Brando Benifei, Giulia Mercadante, Stefano Poggi, Alessia Dusò, Antonio Bressa, Serena Capodicasa, Massimo Bettin, Filippo Silvestri, Giuditta Pini, Francesca Degli Esposti, Federica Degli Esposti, Marco Camorani, Andrea Biagianti, Valentina Valentini, Corinna Puggi, Matteo Trapani, Matteo Martini, Silvia Vannelli, Lorenzo Rocchi, Martino Innocenzi, Matteo Pepe, Michele Bassanelli, Alessandra Luigi, Giulia Tempesta, Federica Cenci, Carlotta Paolucci, Stefano Bellu, Marco Palillo, Alessandro Baroni, Veronica D'Amilla, Marco Cacciotti, Francesco Ameli, Caterina Rogante, Diego Pierotti, Viviana Bellavita, Sara Taglioni, Claudia Tatone, Manuele Gianfrancesco, Andrea Fidanza, Stefano Albano, Federica Montebello, Vincenzo Pedace, Gaetano Di Maio, Maddalena Anna Chiricò, Regina Milo, Antonio Iozzi, Pasquale Stellato, Marco Villano, Alessandro Mugnolo, Anna Libera Refuto, Luana Evangelista, Alessandro Nicotera, Valerio Di Pietro, Roberta Santaniello, Francesco Maria Iandiorio, Donato Ferentino, Antonella Vaccario, Cinzia Ginaldi, Andrea Ligeri, Fabrizio Morgagni, Bruno Lattanzio, Andrea Bracciale, Silvia Ruiso, Amelia Ignore, Francesco Di Noia, Michele Masulli, Francesco Lattarulo, Francesca Cosentino, Pasquale Villella, Francesco Mele, Giuseppe Dell'Aquila, Anna Pittelli, Tania Ruffa, Antonio Billali, Francesco Surace, Armando Bossi, Alex Siracusano, Enrico Battaglia, Salvo Piro, Luca Lombardo, Valentina Falletta, Antonio Pacino, Laura Maggiore, Alba Malino, Nelly Scilabra, Daniele Vella, Andrea Mineo, Mauro Ligas, Angela Corda. Metterei in votazione la direzione... È pervenuta la Presidenza una richiesta di intervento e dichiarazione di voto di Brando Benifei. Quindi darei la parola a Brando. Mi risulta... scusate, mi sembra... Scusate un attimo, un attimo. Un minuto. Il congresso può finire anche un minuto dopo. Mi sembra... lo faccio io perché mi è stato chiesto... Me ne prendo la responsabilità come firmatario, primo firmatario di una delle due tesi. Credo che non sia una bella pagina per la nostra organizzazione che in una regione, in Emilia-Romagna, una, due delegati su tre della tesi numero due, minoranza della regione, che ha un solo posto in direzione, ha fatto una richiesta di una persona concordata con le federazioni che hanno sostenuto la seconda tesi e la persona che viene messa invece in direzione sostiene ora davanti a tutti di non sapere neanche che il suo nome era stato inserito. Credo che non sia rispettoso di una minoranza, di una regione che indica un nome, in maniera concorde dei delegati, due su tre, comunque in maggioranza, fare una scelta di questo tipo. Io credo che sia eccessivo rispetto al fatto che è vero che questo è un congresso per tesi, però è giusto che... è vero che scelgono i setai regionali, però solamente in questo caso ho visto accadere questa cosa e mi sembra veramente fuori luogo. E se è vero che viene emessa una persona che non sapeva di essere emessa, io chiedo ai miei delegati eletti con la seconda tesi o a chi altro riterrà il voto contrario. A parte che mi sono scordato un nome, Alessandro Stefanini, chiedo scusa, diciamo. Seconda cosa, io chiedo di mettere in votazione la proposta per come viene in quanto, diciamo, all'interno del rispetto dei criteri di tesi che sono stati, diciamo, radicalmente mantenuti... Cioè, se vuole intervenire il segretario del... Sì, esprimo una posizione, dato che l'ho stesa, e poi, diciamo... Personalmente abbiamo preso, diciamo, quelle che sono le istanze che venivano dai segretari regionali. Sono stati consultati e sulla base anche di equilibri che hanno dato i nomi della direzione. Dico questo proprio perché il nostro congresso non è un congresso a mozioni con i coordinamenti di mozione, ma è un congresso in cui da domani l'organizzazione dovrà essere tutta quanta unite. Quindi per me sta in primis ai segretari regionali sta in primis ai segretari regionali la responsabilità di indicare i nomi di quella che sarà da domani l'organizzazione giovanile e la direzione nazionale. In questo, se Vinicio vuole dire due parole, io... Non volevo intervenire, ma non vorrei che la mia ragione fosse messa all'udibrio generale. Insomma, non vorrei partire col piede sbagliato. No, guardate, la composizione della direzione, come al solito, è una scelta complessa. Ovviamente ci sono due tesi contrapposte. Per quanto riguarda... Cioè, quindi le tensioni e le questioni tra le due tesi fanno parte sia di quello che... Penso che tutti i segretari regionali possano confermare le tensioni che sono state sia per la tesi racitica e per la tesi benifei. In Emilia Romagna c'è stata una cosa molto semplice. C'erano due persone che avevano espresso la loro candidatura e nella mia pur difficoltà di scegliere ho dovuto fare una scelta all'ultimo secondo. Perché, come dire, c'erano due persone che si erano candidate e quindi, come dire, una delegazione che appoggiava la tesi numero due è spaccata. Quindi questa è la versione ufficiale. Dopodiché poi uno può dire quello che... uno che retiene bordo uno. ma non vorrei, insomma, che fosse messo come dire, all'udibrio di tutti una posizione assolutamente non vera. Ecco, grazie. C'è stato un lavoro... Allora, stiamo creando un'organizzazione giovanile rispettiamo certe regole. C'è stata una commissione c'è stata una commissione elettorale che ha lavorato. Tutti i segretari regionali si assumono giustamente la responsabilità politica delle scelte che hanno operato ne affronteranno sui territori le conseguenze sono scelte inevitabili quando si compone un organismo ci sarà qualcuno così non possiamo affrontare la discussione tema per tema. Io chiederei ai delegati di prendere posto e procedere a una votazione palese sulla proposta di direzione nazionale pervenuta dalla commissione. Allora prendete posto... No, chiedo scusa prendete posto i delegati favorevoli alla proposta pervenuta dalla commissione elettorale in alto le deleghe. Perfetto siete moltissimi verifichiamo contrari contrari contiamo i contrari uno, due, tre quattro, cinque, sei sette, otto, nove, dieci vedo dodici voti contrari potete alzarvi proprio in piedi gli altri si siedono per cortesia perché così è più facile dodici scusate un attimo per cortesia è una votazione si votano i favorevoli e i contrari uno, due, tre quattro, cinque, sei sette, otto, nove dieci undici si confermati i dodici voti contrari astenuti uno allora viene approvata maggioranza la proposta di direzione pervenuta dalla commissione elettorale ora darei la parola per un saluto conclusivo al nostro segretario nazionale dei giovani democratici Fausto Raciti che credo che ci voglia dire due parole al termine di questo dibattito io vi lascio scusatemi io vi lascio vi lascio andare rapidamente semplicemente volevo rinnovarvi di ringraziamento per aver animato questo congresso un ringraziamento anche a chi è stato alla regia di questo congresso Carlo Cortesi non l'ho ancora ringraziato ed ha fatto uno straordinario lavoro un ringraziamento speciale a chi ha rinunciato volente o nolente all'intervento nel corso del dibattito da domani si ricomincia a lavorare grazie a tutti e buon ritorno grazie a tutti